Un autentico spettacolo, quello messo in scena dei Vigili del Fuoco in Piazza dei Signori per festeggiare Santa Barbara. Il comune di Montecchio Maggiore si rivolge alla procura per capire dove finiscano i 35 euro assegnati dallo Stato per i migranti. Vetrate in frantumi in due bar, furti in abitazione, uno scippo violento, un bollettino da paura nella notte a Vicenza. Un operaio marocchino gestiva un traffico di droga dal suo garage di Quinto e la rivendeva in Campomarzo. Zaia denuncia che la situazione delle banche popolari in Veneto è esplosiva, serve l'intervento a salvezza del governo. Il Corradini di Tiene anche quest'anno risulta il miglior liceo classico del Veneto. Riaperti oggi al traffico il ponte delle barche a Vicenza e ad Arzignano quello di San Zeno. Divorzio tra il Bassano Calcio e il giocatore Enrico Zanella trovato positivo alla cocaina.